Bene, vorrei quindi invitare sul palco il nostro ospite Loran Laforga, membro del Consiglio Scientifico dell'Istituto e eminente matematico vincitore della medaglia Filz nel 2002. Buongiorno a tutti, io sono molto contento di essere qui oggi per l'inaugurazione dell'Istituto Grotendic. Sono molto lieto di essere qui con voi oggi per l'inaugurazione dell'Istituto Grotendic. Quindi vorrei raccontare le principali ragioni per le quali sono contento e sono contento della creazione di questo istituto. Spiegherò oggi le principali ragioni per le quali sono felice della creazione di questo istituto. La prima è quella della creazione di un istituto Grotendic. La seconda è la matematica che verrà sviluppata dall'Istituto e in particolare i topoi di Grotendic. La terza è la matematica che verrà sviluppata dall'Istituto Grotendic. La terza è la matematica che verrà sviluppata dall'Istituto Grotendic. E la quarta ragione sono molto contenta per i dottorandi e gli assegnisti di ricerca che saranno associati a questo istituto. E la terza è la matematica che verrà sviluppata dall'Istituto Grotendic. Quinta ragione sono felice per la città di Grotendic e grazie alla cittadinanza e al comune di Grotendic per il sostegno che ha fornito all'Istituto Grotendic. Ora vi spiegherò un pochino di più ciascuna di queste cinque ragioni. La prima ragione è Grotendic lui stesso. Grotendic è stato molto importante nel mio percorso di matematico. Quando ero giovane al liceo l'argomento che mi affascinava maggiormente era la letteratura. La matematica era facile per me ma trovavo che ci fosse più profondità nella letteratura. Ma come la matematica era facile per me, ho intrapreso degli studi scientifici e in particolare matematici. E poi, dopo diversi anni di studi, ho scoperto, appunto, nell'ambito di questi studi matematici, l'opera di Alexander Grotendic all'epoca dovevo avere circa vent'anni. E questa scoperta per me è stata qualcosa di meravigliosa. Per la prima volta, ho scritto dei travaux matematici che mi donnavano il sentimento di una beautà e di una profondezza comparabili a quelle della più grande letteratura. Per la prima volta, trovavo in matematica delle opere di una tale bellezza e profondità come quella che trovavo nelle grandi opere della letteratura. A seguito di queste letture, sono veramente diventato un matematico. Ho fatto le mie attività matematiche nell'ambito di quello che si chiama il programma di Langlands. Ma tutti i lavori che ho fatto sarebbero stati impossibili senza l'opera fondatrice di Grotendic. E questo è vero non soltanto per me, ma per molti matematici del mondo. E ora passo alla seconda ragione, cioè le matematiche che verranno sviluppate qui nell'istituto Grotendic e in particolare la teoria dei topos. Come ho detto, i lavori di Grotendic sono oggi utilizzati nel mondo intero. E purtroppo, di maniera paradoxale, certi aspetti dell'opera di Grotendic sono stati scartati. E tra tutti i temi fondamentali introdotti da Grotendic nella matematica, quello più negletto è risultato l'argomento dei topoi. In effetti, i topoi rappresentano un modo completamente nuovo di pensare la geometria. E permettono, di fatto, di guardare a tutti i settori della matematica dal punto di vista geometrico. Fin dai primi anni di quando ero studente, io stesso ho utilizzato i topoi. Più precisamente, ho utilizzato un aspetto ben preciso dei topos di Grotendic, qualcosa che si chiama, un nome di stress avant, un po' effrayante, comologia. In particolare, ho sfruttato un aspetto molto specifico dei topoi, quello che si chiama l'aspetto della comologia, un termine un po' particolare, tecnico. Quindi, questo aspetto là ha stato molto utilizzato in matematica e ha permesso, non solo a me, ma anche a molti altri matematici, di risolvere dei problemi molto difficili di matematica. Questo aspetto specifico è stato utilizzato non solo da me, ma da molti altri matematici, e ha permesso di risolvere dei problemi molto complessi in matematica. Ma, nel 2011 ho fatto la conoscenza di Olivia, che è giunta all'IHS, che era l'istituto in cui lavorava lo stesso Grotendic, dove io ero professore. E, grazie a Olivia, ho scoperto che c'erano molti altri aspetti dei topoi che io non conoscevo. Quando io diso dei aspetti che io non conoscevo, c'è a la fois delle cose che sono connue depuis molto tempo, ma che non hanno stato abbastanza diffusate parmi i matematici, e c'è anche delle cose nuove che Olivia aveva introdotto in questi travori. Sì, quando parlo di cose che non conoscevo sui topoi, mi riferisco sia a cose che erano già conosciute da tempo, ma che erano state scarsamente diffuse nella comunità matematica, sia, parlo anche di cose nuove che ha portato Olivia stesso. E se questi aspetti dei topoi non sono stati diffusi, non sono stati diffusi sufficientemente, è proprio perché hanno incontrato un'opposizione. E da 11 anni che conosco Olivia, sono stato testimone io stesso di queste manifestazioni di opposizione. L'esistenza di questa opposizione è anche una buona ragione di creare un nuovo istituto, per l'appunto l'Istituto Grottenberg. Quindi spero che la creazione di questo istituto permetta in particolare anche a Olivia di sviluppare al meglio queste ricerche. E spero anche che permetterà ai giovani studenti, dottorandi e postdoc di sviluppare al meglio questi studi. In effetti, il mondo dei topoi è un nuovo continente che merita di essere scoperto. E i nuovi esploratori saranno proprio questi... Questi ricercatori della nuova generazione, questi dottorandi e questi postdoc che impareranno a lavorare con i topoi e a farsi ispirare da essi nelle loro ricerche. L'argomento dei topoi è, a mio avviso, talmente ricco che c'è spazio per decine e anche centinaia di ricercatori che lavorano in questo tipo. E quindi è veramente qualcosa di molto importante che si forme una nuova generazione di ricercatori in grado di compiere questo tipo di ricerche sui topoi di Grotendich. E non mi riferisco soltanto ai topoi ma anche ad altri temi introdotti da Grotendich che meritano di essere maggiormente esplorati. Infine, come ho già detto, sono felice per la città di Mondovì. Per me che sono francese è qualcosa di sorprendente. Perché per un francese tutto quello che è interessante si deve svolgere a Parigi. Tandis che in Italia, chacun rêve di sviluppare la sua propria vita. Mentre in Italia tutti sognano di sviluppare la propria cittadina. E quindi Olivia sogna da tanto tempo di fare qualche cosa per la sua città di Mondovì. Per me che sono francese è qualcosa di molto strano. Ma è anche simpatico. Ma è anche simpatico. E in ogni caso sono molto felice e ammirata che la città di Mondovì apporte immediatamente un supporto importante al sviluppo di questo istituto. E penso che è un valore molto intelligente da parte della città. Sì, e sono molto felice in particolare che il comune di Mondovì porti un sostegno così forte alle attività dell'istituto. Penso che sia una scelta veramente molto intelligente da parte del comune. Buona, grazie. Grazie per la vostra attenzione.